Gentili telespettatori, buona giornata. Il Presidente della Repubblica parla anche lui della lettera di Meloni scritta al Corriere della Sera, il giornale più imparziale che abbiamo in Italia. O almeno quello che tenta l'imparzialità il più possibile. Mattarella avrebbe fatto i complimenti alla Premier per quanto scritto al Corriere dicendogli bella lettera, un rapido scambio di battute in un clima di concordia tra la Presidenza della Repubblica e la Presidenza del Consiglio. Una giornata bella, distesa e positiva, commenta il capo dello Stato. La lunghissima lettera di Giorgia Meloni al Corriere, dove ribadisce le cose dette quel famoso Fiuggi di Fini, ha scritto le stesse cose la Meloni omettendo la parola antifascismo. Ma questo vi ho spiegato il perché sia lei che la russa non si dichiarano antifascisti e anche perché cos'è un patentino? Fatemi capire un attimo. In Italia tu devi avere un patentino di antifascismo? Esiste una patente, una licenza? Tu ti devi dichiarare per forza antifascista? Non può essere che a te non interessi nulla, che reputi ormai una cosa da libri di storia? E' come se oggi uno dovesse ancora dichiararsi garibaldino, anti-garibaldino o il patentino sono a favore di Giulio Cesare, sono contro Giulio Cesare. Ormai questi patentini lasciano il tempo che trovano, nel senso che uno può dire io non sono né fascista né antifascista, proprio non mi devi chiedere un patentino, no? Ecco, è come dire tu dichiara che sei a favore degli animali, perché me lo chiedi? Perché te lo devo dichiarare? Perché devo dirlo a te? Perché mi devo giustificare e mostrare un patentino? Giusto? Io sono a favore degli animali, ci mancherebbe sempre e comunque, per me sono persone non umane, però se tu mi chiedi un patentino ti dico no, il patentino vado a chiedere a qualcun altro, io non devo dimostrare a te qualcosa. Quindi l'idea di Meloni e la russa è, io non devo dimostrare a te un certificato. Cos'è mi chiedi un certificato? Ma che è sta cosa del certificato? E' come se in Germania ti chiede essere un certificato, tu devi dichiarare di essere contro il nazionalsocialismo. Ma perché mi devi chiedere un certificato? Io lo sono, ma tu non me lo devi chiedere, giusto? Se tu guidi la macchina, ti fermano i carabinieri, facci vedere, favorisca i documenti, la patente. Dici no, perché? E' giusto lì, no? Se tu stai guidando, devi avere la patente per guidare, ma se tu stai governando non devi avere patenti di qualcosa. Però sia la Meloni che la russa lo hanno fatto capire. La russa l'ha detto chiaramente in televisione. Dice la russa, se lei mi chiede se sono antifascista, quale antifascismo lei sta, gli sta parlando? Sta parlando di quello militante degli anni 70? Allora le dico no. Mi sta parlando di quello rosso? Di quello che abbiamo visto ieri con le bandiere rosse contro gli esponenti del governo? No. Stiamo parlando di antifascismo nel senso che il suo significato possiamo definirlo antifascista nel senso che sei contro la dittatura? Allora la russa dice allora sì. Se il significato è essere contro una dittatura sono antifascista. Ma se quel termine significa altro, significa le violenze che abbiamo visto negli anni, allora no. E mi sembra abbastanza intelligente, solo che in un ambito politico come il nostro, abbastanza di bassissimo livello, bassissimo livello politico, poi nel prossimo video parleremo anche di questo, in un contesto di così basso livello politico non puoi andare a fare troppi ragionamenti di fino, perché non ti seguono. Quando il livello è basso, tu per parlare con gli altri devi avere un livello basso come loro. Se tu cominci a fare dei ragionamenti un po' più complicati, più complessi, ti cominciano a non capire e a pensare che tu sei dall'altra parte. Giusto? Se voi siete di sinistra e criticate la Schlein, allora siete diventati improvvisamente di destra. Se voi siete di destra e osate criticare la Meloni perché non ha mantenuto una promessa, sei diventato un comunista. Questo è un livello basso, basso è dir poco, della politica italiana e di chi segue la politica, perché guardate che la politica è lo specchio della società. Se la politica ha un livello così basso è perché la società italiana mediamente ha un livello molto molto basso. Così Mattarella fa i complimenti alla Meloni con la lettera dove la Meloni ha preso le distanze. Dice noi, di Fratelli d'Italia, noi del governo, ha parlato a nome anche del governo, noi siamo distanti da qualsiasi nostalgia del fascismo. Più chiaro di così, però si nota che lei non pronuncia e non si dichiara antifascista proprio per quello che vi dicevo prima. Di quale antifascismo stai parlando? Se è dell'antifascismo per evitare una nuova dittatura contro una nuova dittatura è ok, ma se mi parli di altro allora no. Però questo discorso non è poi così complicato, è complicato per chi non vuol sentirlo. Questo che io vi sto dicendo lo racconti a uno di sinistra? Non lo vuole sentire. Ti dice che stai dicendo sciocchezze che l'antifascismo è uno solo. Tutte quelle robe che dici tu non è vero. Violenza non è vero, non è vero, non c'è nessuna violenza nell'antifascismo. Insomma, diciamo che non sono opinioni personali ma è storia e lo dicono anche, lo dicono praticamente tutti gli studiosi o intellettuali di destra o di sinistra, guardando la storia ormai con una certa distanza di decenni si può affermare proprio quello che vi ho detto io. Però l'elettore un po' sempliciotto o anche meno sempliciotto c'è chi non ci arriva, perché tanti non ci arrivano, e c'è chi non lo vuole sentire per muro ideologico. Come ammettere una cosa come quella che vi ho detto significhi non avere più il terreno sotto i piedi che ti manca, come? E adesso cosa penso? E adesso che cosa faccio? Se mi togli pure questo che mi resta? Mi resta che parlare di temi seri? Grazie a tutti e arrivederci.